Verità, giustizia, dolore, indignazione. Poco prima della fine della messa la gente solleva in alto i sentimenti di tutti. I cartelli parlano di quello, chiedono verità, verità per le responsabilità che ci sono, perché tragedie come queste non possono rimanere senza responsabili. Donne che lavorano o tentano di farlo sono arrivate da Taranto per partecipare ai funerali. La polizia ha chiesto loro di cancellare parte dello striscione ritenuto offensivo. La forma forse era eccessiva, ma la sostanza della loro denuncia non cambia. Nessuna contestazione prima e durante i funerali, solo dopo un po' di ressa davanti al municipio, tutto sommato però un clima composto. Ma la sensazione che queste cinque donne resteranno saranno per sempre il simbolo del sud che deve cambiare, quello dei palazzinari senza scrupoli e della burocrazia sorda agli allarmi. La procura di Trani ha emesso nove avvisi di garanzia nell'ambito dell'indagine sul crollo della palazzina di Barletta. Tra gli indagati il proprietario del laboratorio Savio Cinquepalmi e alcuni dirigenti e tecnici del comune.